Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la quotidiana rassegna stampa curata dalla redazione giornalistica. Allora iniziamo subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali, andiamo sul nostro touchscreen per vedere appunto la prima del centro nell'edizione di Pescara. Insulti tra 5 stelle e Teodoro, il titolo con il quale viene aperto il giornale. Pescara in consiglio e grillini attaccano il capogruppo e lui minaccia delle denunce. E poi a centropagina la notizia di queste ore Abruzzo nella morsa del caldo e il peggio deve ancora venire. Temperature record Bollino Rosso a Pescara, oggi fra le 16 città più calde d'Italia. Andiamo a vedere anche nelle cronache a Pescara aggredita la famiglia in tenda davanti al comune. Ancora nelle cronache sempre dal capoluogo fermato l'autore dei furti nei negozi è un 62enne e poi il calcio, il Pescara fa tre gol e strappa i primi applausi nella amichevole di ieri con la Fidelisandria. Poi della nostra rassegna. Nel taglio basso il Buongiorno Abruzzo firmato da Giuliano Di Tanna non c'è password per il nostro passato. Continuiamo a leggere il giornale di spalla. Troviamo in primo piano la Camera con il Decreto Sud che legge incentivi in arrivo anche per l'Abruzzo e poi il Consiglio regionale sul trasporto locale. La regione Blinda La Tua che vi ricordo è la società unica del trasporto pubblico abruzzese. Continuiamo con il taglio alto. Tragedia Udine strangola la fidanzata 21enne e porta il cadavere alla polizia. Sono i richiami dal nazionale. Poi il superneralotto vincita record a Caorle. Gioca una schedina da 4,5 euro. Porta a casa 77,7 milioni. Davvero una bella vincita. Complimenti. Continuiamo con il Quotidiano Il Centro. Adesso invece andiamo a vedere la prima dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Il titolo di apertura amianto nelle case popolari a pezzi. Chieti muri scrostati, ferri a viste. Ora spunta l'Eternit sui tetti negli alloggi comunali. Questa l'apertura del giornale Teatino. E poi nelle cronache vasto fiume d'acqua sulla riviera allagati gli accessi al mare. Andando più in basso a Fossa Cesia. Cade in acqua, passante si tuffa e la salva. E poi ad Ortona, purtroppo un'altra avvertenza pesante per la nostra regione e per la provincia di Chieti, a Libarton c'è lo spettro della chiusura. Ci sono in ballo 30 licenziamenti e a cui si aggiungono anche i problemi legati a una possibile chiusura dell'azienda che si occupa di idrocarburi. Proseguiamo con il centro. Adesso l'edizione di Teramo. Andiamo a vedere l'apertura. Due rapine alle poste e in banca. Il titolo ovviamente è dedicato alla cronaca. Colpi all'ufficio di Scerne di Pineto e la BCC Picena Picena Truentina di Alba Adriatica. Continuiamo. Andiamo a vedere nelle cronache. Incerta la riapertura delle scuole terramane per i danni dal sisma e poi il guasto al Frecciabianca bloccato a Giulianova e ancora stroncato sulla spiaggia da un malore a Villa Rosa di Martinsicuro. La vittima è Luigi Quaglia. Questo per quanto riguarda anche la prima pagina del centro di Teramo, ultima delle quattro edizioni provinciali, quella di L'Aquila Avezzano Sulmona. Titolo di apertura, Don Vito fa un passo indietro. L'Aquila, il prete nel mirino per una relazione amorosa, si rimette e chiede scusa alla cittadinanza e dei fedeli. Nelle cronache l'Aquila, ore di paura, le fiamme divorano la pireta di Aragno e ancora ad Avezzano tutto pronto per l'invasione degli alpini a Sulmona, a scuola mamme contrarie al traslogo al CIM. Adesso cambiamo testata, andiamo a vedere insieme la prima pagina del messaggero nell'inserto Abruzzo. L'apertura è dedicata all'AFA, l'Abruzzo nella morsa dell'AFA. Temperature percepite oltre i 40 gradi a pescare nella costa e il peggio deve ancora venire, le più colpite saranno la Marsica, l'Aquilano e le vallate adriatiche, super lavoro per gli ospedali. Nel frattempo all'Aquila purtroppo ancora una notizia di un incendio, a Ragno brucia il bosco, le case sono minacciate, puntuali con il gran caldo, tornano gli incendi, cielo zambino delle piromane dietro il rogo del bosco di Aragno alle porte dell'Aquila. Tra l'altro la regione ha firmato qualche giorno fa un accordo con i carabinieri forestali per contrastare proprio il fenomeno dei piromani che in quest'estate stanno veramente facendo strage. continuiamo a centropagina, chili di cocaina nell'auto accanto ai figli, a pescare in manetto una coppia di insospettabili, la finanza indaga per scoprire i destinatari e sempre per quanto riguarda la cronaca, a Chieti, droghe movida ha preso il capo, un pescarese considerato uno specialista del ramo. Ancora Pescara dopo gli undici colpi dell'altra notte tentava il bis, scacco al pendolare delle spaccate, arrivava da Roma con il treno, si legge nella didascalia luna di notte e ripartiva all'alba con il bottino razziato nei negozi del centro. Si tratta di un romano di 62 anni appena uscito di galera dopo dieci anni. Andiamo a vedere adesso di spalla calici di stelle, notti magiche tra brindisi arte e musica. Questo l'appuntamento da domani fino al 14 agosto, previsti eventi in serie in tutte le cantine per promuovere appunto il vino d'Abruzzo. Nel taglio basso lo scandalo, love story, il prete abbandona la curia. Don Vito Isacchi, il sacerdote finito nella bufera per una storia d'amore con una donna sposata, scoperta e denunciata dal marito tradito per la chiesa e un sacerdote recuperato, quindi riabilitato a tutti gli effetti. Tuttavia l'arcivescovo per ragioni di opportunità pastorale ha deciso di sostituire Don Vito negli incarichi che rivestiva a livello diocesano, mentre lo invita a mantenere per il momento le attività nelle comunità parrocchiali al fine di assicurare continuità ministeriali. In una nota Monsignor Petrocchi ha espresso profondo rammarico per quanto è accaduto. Andiamo adesso nel taglio alto del giornale. All'Aquila Gino Paoli stasera al castello per i cantieri degli immaginari e poi Chuck si gira, Pescara diventa un set per il film del regista Andrea Malandra e il concerto più atteso, Gabbani arriva ad annunzio il trionfatore di Sanremo, i scalette tormentoni dell'estate da occidentali scarma all'ultimissimo granite granate verso il pienone e corsa agli ultimi biglietti disponibili. Lasciamo il messaggero, adesso andiamo a vedere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Titolo di apertura, la scuola allo stadio ci va bene. Il comitato dei genitori chiede di abbandonare le scuole più insicure, problema per 2017 alunni. E poi nel taglio alto, operazione sui monti della laga, i carabinieri forestali arrestano due bracconieri. Ancora la sanità, il randaggismo è un problema debellato e poi l'economia, la Camera di Commercio aumenta i contributi per le imprese. Ieri l'iniziativa è stata presentata appunto dal presidente della Camera di Commercio di Teramo, Lanciotti. Troviamo anche l'editoriale del direttore Alessandro Misson, il titolo è il peso dei numeri. Altro che allarmismo è una situazione allarmante, mancano 40 giorni all'inizio dell'anno scolastico e in città non c'è certezza su dove sistemare gli alunni delle comunali. Questo l'attacco dell'editoriale di Alessandro Misson. Centropagina, l'inchiesta a Torre del Cerrano, i turisti se ne infischiano di cartelli e barriere, area marina poco protetta. Scendiamo in basso sotto la fotonotizia, impossibile sopportare altri 900 migranti, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale critica con il ricollocamento deciso dalla prefettura. Nel taglio basso troviamo il calcio e in particolare il Teramo. Ilari prende la maglia numero 10 ma gli esuberi diventano un problema. Scusate, lasciamo le pagine regionali, adesso apriamo lo spazio dedicato al Nazionale partendo dal Corriere della Sera. Andiamo a vedere i principali titoli dei quotidiani italiani. Cantieri, l'Italia non cede l'apertura, il vertice, il destino della società Breton e il ministro Lemaire, idee diverse ma c'è tempo per trattare. Ovviamente braccio di ferro fra Roma e Parigi prosegue da un po' di tempo. Padoan ne dice vogliamo la maggioranza di STX. Andiamo a vedere le altre notizie. L'accordo strappato e la brucia tradita e il commento su questa scusate su questa notizia e poi Costamagna e Gallia, un caso politico intese industriale ancora possibile. Di spalla troviamo l'intervista a Giletti, lascio la Rai, lì ero scomodo, Giletti passa alla 7. E poi l'editoriale di Angelo Panebianco, la politica che non sa reagire. Il titolo dell'articolo, il dibattito della Camera sui vitalizi dei parlamentari si è risolto come era prevedibile in uno spot contro il Parlamento e poiché il Parlamento è parte integrante della democrazia rappresentativa possiamo dire che abbiamo assistito a prove tecniche di tirannia. Questo è l'incipit dell'articolo che ovviamente potete leggere sul Corriere. A centropagina la fotonotizia, turismo, caos a Malpense, linate per l'agitazione di CGL Cisle Will, le assemblee spontanee che fermano decine di aerei. Ogni estate torna il dibattito proprio sugli scioperi nei trasporti in un periodo in cui i trasporti sono cruciali per il turismo. E ancora assessore accusa la sindaca Raggi siamo a Roma e lascia la delega. Il caso Mazzillo non rientra dopo lo scontro sull'Atac. L'assessore al bilancio del Comune di Roma ha rimesso nelle mani della sindaca la delega al patrimonio. Andiamo avanti adesso il titolo della Repubblica con cui viene aperto il giornale. L'offerta di Parigi alleanza sulle navi. Fincantieri due mesi per risolvere il caso. Paduan linea dura. La Francia per un polo in competizione con tedeschi e cinesi. A centropagina il sindaco punito, scusate l'assessore punito dal sindaco Raggi ma deve cacciarmi lei. Roma anche Mazzillo vicino all'addio. Ancora caos nella giunta 5 stelle di Roma. E ancora la cronaca. Nadia uccisa come alba. La gioventù bruciata dai maschi. Avevano poco più di 20 anni. L'ennesimo purtroppo femminicidio che si registra nella nostra nazione. Andiamo adesso a vedere la stampa. Il titolo di apertura è dedicato al problema STX. L'Italia non cede a Parigi ma spunta un compromesso. Possibile un patto fincantieri in Naval Group per le commesse militari. Paduan e Calenda Lemaire vogliamo il controllo. Si tratta fino a settembre. Poi il voto oltre alpe. A settembre ci dovrebbe essere un vertice fra i due primi ministri, fra Macron e Gentiloni. Poi a centropagina Turchia in piazza. Le ragazze anti Erdogan. La rivolta delle donne dopo le violenze per gli abiti inadeguati. Non diteci cosa indossare. Andiamo a vedere anche l'editoriale a firma di Luigi Laspina. Le regole per il premier che verrà la legge proporzionale. Si torna a parlare appunto della legge elettorale in vista delle prossime elezioni. Ora andiamo sul fatto quotidiano. Il titolo di apertura salvano gli storchele e i vitalizi e prorogano l'appalto truccato. Grandi riforme, ultime vergogne di governo in maggioranza prima delle ferie. Scendiamo, mancia le lobby per decreto e rincari nascosti nelle bollette. Il voto di fiducia, la legge concorrenza, tutela, assicurazioni e grandi gruppi energetici. Andiamo a vedere ora la prima del sole 24 ore, il principale quotidiano economico e finanziario italiano. Ovviamente l'apertura è dedicata al caso STX, Paduan. Vogliamo il controllo e il nell'alleanza fin cantieri STX. Dunque questa è l'apertura del giornale. Incontro fra Italia e Francia. Restano le differenze ma si cerca l'intesa. Il nodo della difesa, l'accordo slitta a settembre. Parigi non aprirà il capitale a terzi. A centro pagina il Venezuela. Ancora arresti dei leader dell'opposizione, la grande fuga delle imprese da un paese che è sull'orlo della guerra civile anche dopo le elezioni che hanno visto trionfare Maduro. Però ovviamente ci sono grandi proteste da parte dell'opposizione che contesta le modalità con cui si sono svolte le elezioni. Andiamo a vedere anche altre notizie. Agenzia del farmaco in corsa a 19 città, Milano in prima fila, presentate le candidature in otto per l'Eba e poi la crescita accelera in Europa più 2,1% il PIL nel secondo trimestre. Andiamo a vedere anche il focus tradizionale nel taglio altro, crisi di impresa, concordato preventivo, ultima chance di riordine. Poi l'agenda del professionista, lotta al riciclaggio, segnalazione immediata delle operazioni sospette. Ora la prima del messaggero. Il tesoro boccia i conti di Roma. Il governo convoca in Campidoglio, il Campidoglio a settembre, errori sui salari accessori e il piano di rientro, giunta raggi senza pace, Mazzillo rimette la delega al patrimonio e arriva il mini rimpasto. La linea dura di Casaleggio e Grillo, l'assessore dimezzato nel mirino di 5 stelle, vertice nella notte per trattare l'uscita. Questo è il retroscena che propone il messaggero. Poi una cappa di caldo sull'Italia, l'AFA percepita è a 50 gradi, il picco più alto 52 gradi in Sardegna, è stato registrato nella giornata di ieri. Poi Fincantiere STX, scontro frontale, Padoan dice vogliamo il controllo. I francesi offrono un patto al 50 per cento, decisivo il vertice fra Gentiloni e Macron. Continuiamo con il tempo, restando ai quotidiani romani. Pulizia di Stato, il titolo sulla fotonotizia, parla il sindaco di Amatrice Pirozzi, ben venga il presidente, così tolgono le macerie. E ancora, dopo i 350 mila euro per Gramsci, tutte le marchette della politica, regali e spot nel decreto per rilanciare il sud, allora è un vizio, scrive il tempo. Continuiamo sul manifesto, il quotidiano comunista, il titolo sulla fotonotizia è come sempre molto particolare per il manifesto, Cue le sac, il titolo appunto, il ministro francese a Roma non risolve lo stallo sui cantieri, l'Italia non rinuncia alla maggioranza di STX, Parigi tenta con l'Airbus dei mari, Gentiloni e Macron appuntamento a settembre. Questo è il sunto di quanto sta accadendo nello scacchiere industriale europeo. E poi arrestati due leader dell'opposizione venezuela, il Tribunale Supremo, Revoca e i domiciliari preparavano la fuga. sempre sul Venezuela, Bolivarismo, non chiudere gli occhi, la riflessione aiuta. Andiamo sul libero ora e cambiamo diciamo versante politico, andiamo a vedere i quotidiani di centrodestra, il nostro governo non conta niente il titolo, tutti lo prendono per il bavero, i medici senza frontiere fanno di testa loro per salvare i migranti, la Francia si impone, noi caliamo le braghe, la Germania non ci ascolta neppure, l'Europa ci considera una pattumiera, Gentiloni pensa solo a punire i poliziotti con la legge antitortura, i provvedimenti importanti non passano, quelli dannosi si approvano in fretta, è un fallimento totale, un giudizio abbastanza manicheo quello del giornale diretto da Vittorio Feltri. E poi così i cinesi colonizzano l'Africa, Pechino crea città per far lavorare i propri cittadini. questo per quanto riguarda la prima di Libero. Andiamo sulla verità, Camere e Senato chiusi per 40 giorni, Vitalizzi e Marchette in Parlamento buttano soldi anche per Gramsci. Vedete si riprende lo stesso argomento già trattato, abbiamo visto sulla prima del quotidiano il tempo, prima delle ferie rinvio della legge antiprivilegico si affossate, soldi a pioggia alle lobby dei potenziali elettori per salvare il padre della Boschi, il PD boicotta la commissione d'inchiesta sulle banche chiesta da Mattarella. E poi a centropagina la fotonotizia, la siriana di Bassano che rifiuta il velo, pregava Dio ma non era alla. E poi a centropagina carceri in mano ai reclusi, ogni giorno tre agenti feriti, sindacati denunciano l'iniziativa a celle aperte, stranieri fuori controllo e la Lega protesta con il ministro Orlando. Andiamo a vedere adesso il secolo d'Italia, disastro capitale, il titolo con la foto del sindaco Virginia Raggi con le mani tra i capelli, ce ne fosse uno, uno soltanto nei 5 stelle in grado di fare una cosa senza sbagliare due, l'ultima figuraccia in ordine di tempo arriva dal Campidoglio dove l'assessore al bilancio Mazzillo ha rimesso la delega nelle mani del sindaco. In primo piano nel taglio basso, ONG non firmano il codice centrodestra fuori legge, poi centomila russi sul Baltico, Putin noi siamo forti ancora, ecco il primo senatore di Fratelli d'Italia, l'ex AN Stefano Bertacco, questo per quanto riguarda appunto il quotidiano che fa riferimento a diciamo alleanza nazionale. Allora alleanza nazionale adesso Fratelli d'Italia andiamo su avvenire, quotidiano cattolico, Libia, si inviano navi, si raccolgono morti, il fatto il ministro Pinotti dice missione concordata con Tripoli, prevista solo l'autodifesa, l'Unione Europea, porti non garantiti a chi non ha firmato il codice otto cadavere intanto sui gommoni soccorsi dalle ONG. A centropagina nei campi di Latina sfruttati italiane e richiedenti asilo, reportage la strategia dopo la sindacalizzazione dei SIC. A centropagina Italia e Francia lontane ma sui cantieri si tratta calenda distanti, serve fiducia reciproca, negoziati fino al 27 di settembre per la vicenda STX. Andiamo a vedere adesso il mattino di Napoli, Italia-Francia in muro contro muro, questo è l'argomento caldo di oggi, il ministro Alemer crea un gruppo europeo, gentiloni e pessimiste e solo Melina si tratta fino a settembre. Vertice su fincantieri, Paduan dice non accettiamo di scendere sotto il 51 per cento che consente il controllo dell'azienda. E poi l'inchiesta, delitto di Aversa, spuntano i complici nel garage Ciro, non ha agito da solo per quanto riguarda la cronaca. I focus del mattino, missione Libia, i nostri militari potranno rispondere al fuoco, queste le regole di ingaggio. E poi il calcio, calcio d'agosto ovviamente, azzurri, K.O. con l'atletico dopo il vantaggio Reina e difesi incerti, Napoli show per un'ora, poi i soliti errori nella Audi Cup. Andiamo ancora avanti, il secolo XIX, anche qui l'apertura è dedicata al caso STX, si apre uno spiraglio. Paduan e Calenda a fincantieri la maggioranza. Trattative aperte fino a settembre, no dell'Italia la proposta francese, ma sul militare è possibile un patto. A centro pagina invece il gran caldo, caldo senza tregua, Genova task force per 750 anziani. Ovviamente il quotidiano Ligure pone attenzione a quanto accade nella sua regione. A centro pagina la Libia, l'Unione Europea con l'Italia ha tracchi non garantiti e poi droga, problema sociale. I giovani sono lasciati da soli. Andiamo a vedere adesso insieme i principali quotidiani nazionali sportivi. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. Il titolo, titolona e centro pagina pone le due milanesi a confronto. Milan contro Inter, chi è la più forte? Rossoneri avanti di una lunghezza, pesano Donnarum e la difesa che si è molto rinforzata soprattutto con l'arrivo di Bonucci. Intanto riecco su uso domani titolare. Per l'Inter i nerazzurri oggi dispongono dell'attacco migliore per Icardi, centrocampo equivalente Spalletti e il valore aggiunto. Per il mercato arriva Vesino che dice grazie Recoba. Andiamo nel taglio alto. La Juventus, Allegri, superattacco e un marchisio rinato. C'è K i campioni d'Italia, qualche problema in difesa. E poi Napoli, il gioco c'è, Caillon gol, però vince l'atletico l'esame di Sarri in vista dei preliminari di Champions League. Andiamo nel taglio basso. Ora a vedere le altre notizie. Le altre amichevoli sempre restando al calcio. l'Euro Atalanta stende il Borussia, Viola ha tutto chiesa. E poi il Toro al Filadelfia per almeno vent'anni e ritorna Belotti. La mega trattativa dell'estate. Neymar verso il Paris Saint Germain. Il Barça vorrebbe soldi e Di Maria. Per quanto riguarda invece l'atletica, Bolt ultimo urrà finire da vincente ai mondiali. E poi il basket, il nuovo CT, Sacchetti d'Italia, Torno che onore. Parigi e le EA sorridono. A Malagò non va giù. Giochi Roma miope. Andiamo a vedere anche il Corriere dello Sport. Il titolo sulla fotonotizia, effetto Neymar. Il brasiliano a Parigi innesca una reazione a catena. Inter c'è Draxler. L'ala del PSG nel mirino nero-azzurro. La chiave è Gioao Mario e Matuidi adesso è più vicino alla Juve. Questo è il domino che si sta scatenando a livello del calciomercato europeo. Nel taglio alto il Napoli. Lampi e botte contro l'atletico. Follia, Godino, una sessia in lacrime. Laudicap, Sarri domina ma perde 1-2. assegno Cagliecon. Brutta entrata del difensore sulla caviglia dell'Algerino. Poi il ritratto dello sceicco che ha fatto ricco il Paris Saint-Germain che potrebbe diventare la società che ha pagato un calciatore di più nella storia. Roma, caccia al centrale. Rodrigo Caio in prima fila e poi Lazio De Vrai. Vertice decisivo, prove di rinnovo con Clausola. Poi l'inchiesta a matrice un anno dopo. così lo sport fa da traino. Il sindaco, lo ricordiamo, è stato un allenatore di calcio. E poi su tutto sport il ritorno di Andrè. La priorità della Juve è il rinforzo al centrocampo. Il Barca può vendere Gomez soffiato un anno fa ai bianconeri. E poi le pagelle del prof Allegri. Nel taglio basso Toro-Cairo fa pretattica sul mercato. L'Inter con un gigante per la difesa di Spalletti c'è Christensen. Poi il fatto da Bonuccia e Neymar è un'estate di tradimenti e la moto dovizioso esclusivo. Le vacanze un'olimpiade. Questo per quanto riguarda anche la prima di tutto sport. Noi adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Andiamo a vedere però prima le previsioni del tempo importantissime in queste ore di grande caldo e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna per le notizie dalla nostra regione. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione andando ad aprire le pagine interne dei quotidiani. Partiamo dal centro nella pagina di primo piano. Troviamo la sfida sul trasporto locale. L'Abruzzo tiene per sé le corse gestite dalla Dattua. Il consiglio vara la legge per emanare entro l'anno i bandi per le concessioni ma blinde i servizi della società unica che resteranno in house che vuol dire con socio unico la regione. Abruzzo. Intanto c'è la polemica. D'amico ad Alfonso scelgo io le persone da frequentare. Continuando nel taglio basso troviamo invece danni da sisma e neve. Primo bando da 3 milioni per i terreni agricoli. Continuiamo con con la lettura della pagina di primo piano del centro. Andiamo a vedere nel taglio alto scontro sulle nomine nelle ASL. Gatti d'Alfonso non ha tenuto conto dei sorteggi di legge e poi Parco Gran Sassolaga ok al piano la legge passa l'emiciclo di Matteo finita l'epoca dei soli divieti. Al centro pagina il decreto sud diventa legge agevolazioni per 1.600 milioni opportunità anche per la regione Abruzzo nel decreto che riguarda il mezzogiorno. Poi micro e piccole e medie imprese Agribond per l'accordo coltivare il futuro progetto Ismia Unicredit per sostenere gli investimenti nel settore agroalimentare. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo del messaggero che riguarda invece l'ondata di calore. Sull'Abruzzo sabbatte Lucifero record a Pescara. Nel capoluogo adriatico ieri toccata la massima di 41 gradi il meteorologo De Palma rischio le vallate dell'entroterra. Poi i consigli del medico bere molto, mangiare poco e indossare abiti chiari. L'esperto e il tasso di umidità elevata rende il caldo molto insidioso per l'organismo umano. possiamo andare a vedere a questo proposito il servizio curato da Andrea Costantini. Caronte è niente o quasi rispetto a Lucifero. Il caldo, la fa condita di un elevato tasso di umidità che abbiamo patito fino a qualche giorno fa, rischia di impallidire rispetto a quello che si preannuncia per mercoledì e che già oggi però ha cominciato a mostrare i muscoli. È in atto un anticiclone proveniente dal Sahara Algerino che sta portando una pesante ondata di supercaldo con pochi precedenti. Già si toccano i 40 gradi ma da domani Lucifero entrerà nel vivo della sua azione. Sarà sauna Italia da nord a sud almeno fino a tutta domenica con temperature medie attese in pianura che si attesteranno sui 36-39 gradi con picchi oltre i 40. Calura eccezionale anche in montagna. Secondo il bollettino delle ondate di calore curato dal Ministero della Salute le città da Bollino Rosso oggi sono quattro, Campo Basso, Frosinone, Pescara e Roma. Invece mercoledì saranno ben 16 tra cui ancora Pescara. Questo periodo di massima allerta impone a tutti quanti noi una massima attenzione su alcuni modi comportamentali, su come poter evitare ogni anche ipotetico atteggiamento che possa in qualche modo sviluppare un principio di incendio. Insieme alle forze dell'ordine siamo fortemente attivati affinché ci sia un'attività oltre che di prevenzione anche di repressione. All'uomo abbiamo sottoscritto un'ulteriore convenzione con i carabinieri forestali, siamo stata la prima regione in Italia che va a sottolineare un po' l'aspetto della repressione che credo a questo punto debba essere in qualche modo sviluppata, ripensata anche dal sistema nazionale. Il caldo record dell'estate sta stravolgendo anche i consumi degli italiani con più 3 per cento per l'ortofrutta, più 17 per cento per l'acqua non gassata e un incremento del 19 per cento dei gelati in vaschetta. I dati sono stati diffusi da col diretti sulla base dei dati Nielsen relativi al giugno 2017 che si è classificato al secondo posto tra i più caldi dal 1800 secondo il CNR. Ad aumentare sono anche i consumi di mozzarella con un più 13 per cento come le bevande a base di tè mentre per le birre alcoliche chiare con gradazione inferiore ai 6 gradi il balzo in avanti è dell'11 per cento. L'anomaria climatica ha influenzato comportamenti e consumi con gli italiani che non escono di casa, cucinano meno e fanno aumentare gli acquisti di cibi pronti e rinfrescanti oltre che di bibite e frutta che ha fatto registrare nel 2017 il record degli acquisti degli ultimi 17 anni. Proseguiamo con la lettura dei nostri giornali. Andiamo sulla pagina Abruzzo della città. Il quotidiano della provincia di Teramo apre questa pagina con una notizia. Tra 40 anni tutta la costa sarà cementificata. L'allarme è lanciato dai Verdi. Nel 2060 avremo un'unica barriera fatta di cemento e mattoni. Costruzioni selvagge, 19,2 milioni di metri quadri occupati da stabilimenti ovvero 160 milioni di metri cubi di cemento che corrispondono a 534 mila appartamenti da 100 metri quadrati l'uno. Una grande colata di cemento. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere insieme la pagina di Pescara. L'apertura è dedicata alla politica. L'ite in consiglio. I 5 stelle insultano Teodoro e lui dice andrò in procura. Aula bloccata dagli emendamenti. Alessandrini rompe una porta per la rabbia. Ne vedete proprio il racconto nelle fotografie e la porta la porta del bagno rotta che avrebbe rotto il sindaco di Pescara in uno sfogo di rabbia. Andiamo avanti sempre su questa pagina. Aggredita la famiglia che vive in tenda davanti al comune. La donna racconta di essere stata picchiata alcuni giorni fa. Siamo ancora senza casa. Ora la notte facciamo la guardia dicono. Ieri è stata intanto inaugurata la piazza intitolata Berlinguer. Invece nel taglio basso l'assessore dà un tetto ai coniugi con nove figli. L'allegrino offre la sua foresteria in attesa di dare un alloggio all'ultimo gruppo di sfollati di Rancitelli. Sfollati da Via Lago di Borgiano. Proseguiamo con la pagina di Pescara sempre sul centro. Operazione della polizia. Furti a raffica nei negozi. Fermato il ladro e un romano di 62 anni. La settimana scorsa è arrivato in treno e ha messo a segno dieci colpi sequestrati a alcuni arnesi da scasso. Bagnatore in lutto è morto Bruno Di Rocco per quanto riguarda gli imprenditori della costa pescarese. Mentre nel taglio basso cocaina nell'auto con i figli. I coniugi sono stati arrestati. Le unità antidroga della finanza scovano quattro chili di stupefacente sotto al cambio e tra i sedili. Sempre nelle pagine di Pescara l'AFA sale ancora e geriatria scoppia. Secondo il Ministero della Salute l'allerta meteo aumenta. Il primario del pronto soccorso in un giorno 70 malori. Ovviamente bisogna stare attenti a non esporsi nelle ore calde sotto il sole ma anche a seguire una corretta alimentazione come abbiamo visto in precedenza cercando di rimanere per quanto possibile al fresco e al riparo dai raggi solari. Continuiamo con le pagine di Pescara del centro. Torneo di bicicolfi in otto stabilimenti per raccogliere il sangue e poi nel taglio basso via De Cecco sette gli alberi da sostituire al via la riqualificazione dei marciapiedi concordata con i residenti ma Foschi attacca. Andiamo adesso sulla pagina dell'area metropolitana. Via Ciafarda torna l'acqua per 13 famiglie a San Giovanni Tetino. Il sindaco Marinucci ordina all'ACA di riattivare il servizio interrotto per morosità. E poi ladro si schianta vicino al supermercato a San Buceto con l'auto rubata a Chieti e abbattuto il contenitore degli oli esausti, ferito e scappato a piedi. Francavilla al mare, fuochi d'artificio estivi e cani in fuga. L'esplosione dei giochi pirotecnici e lo scoppio di petardi possono determinare conseguenze particolari per gli amici a quattro zampe. Proseguiamo con il quotidiano il centro, svolte certame, l'estate popolese entra nel vivo, tante iniziative in programma nel centro pescarese. Poi nel taglio basso risorge il bel sentiero nel parco Farindola, riqualificato da otti detenuti, porterà il nome di Marco Riccitelli. Prima di vedere la pagina di Chieti, torniamo sul messaggero, andiamo a vedere le pagine di Pescara. Lo scassinatore seriale venuto da Roma tenta il bis e viene arrestato l'autore delle undici spaccate in Corso Umberto e dintorni, aveva appena scontato dieci anni, arriva a Pescara con il treno del luna di notte, ripartiva all'alba, un lupo solitario considerato uno specialista del ramo. Vedete proprio gli arnesi da scasso nelle mani degli uomini delle forze e dell'ordine. È la fine dell'incubo per i commercianti del centro, decisive per le indagini della mobile, le telecamere. Abbiamo visto in auto con i figli e 4 kg di cocaina le pescarese lui Marsicano, bloccati dalla finanza sulla tangenziale. Poi la piazza dedicata a Enrico Berlinguer, un riferimento non solo per la sinistra, ieri l'intitolazione della piazza antistante, la stazione di Portanova. E poi notizia particolare nel taglio basso, gli scatti dal degrado, la foto della vergogna in pieno giorno si denuda e fa i bisogni nelle ruole di fronte al palazzo del comune in piazza Italia. Proseguiamo con la politica, notizia che abbiamo visto trattata in apertura anche sul quotidiano il centro, sia i Teodoro e si sblocca il bilancio. Questo è il retroscena che propone il messaggero, un vertice notturno del PD dal via libera, ritorno in giunta degli alleati, ma è scontro aperto sui nomi di Veronica o di Gianni Teodoro. La parziale schiarita consente l'approvazione delle delibere propedeutiche all'assestamento di bilancio, la grana in mano a Rapino, che è il segretario regionale del Partito Democratico. Alessandrini spinge per la quota rosa, ma c'è un piano B, serie di veti incrociati sui nomi di Civiterese, Diodati o Diacovo. Altra notizia, turismo Elena Pertuzzi guida la DMC Terre del Piacere Spazio agli operatori. Continuiamo con la lettura del messaggero. Nell'area metropolitana tutti felici e gabbani e il concerto più atteso. Il trionfatore di Sanremo stasera alle 21 al D'Annunzio con i tormentoni dell'estate da Occidentali Scarma a Tra le Granite e le Granate, le hit più famose nella sua scaletta. Nel taglio basso, notizia curiosa, cià che Pescara diventa un set per il film di Andrea Malandra. La città è appunto diventata un set cinematografico. Proseguiamo con la lettura dei nostri giornali regionali. Adesso andiamo sul quotidiano Il Centro, la pagina di Chieti. Eccola qui, paura fossa cesia, cade dagli scogli, passante si tuffa e la salva. Finisce in acqua di notte e rischia di annegare. Un uomo sul lungomare con la famiglia riesce a portare a riva la 51N. Vedete la fotografia del capanello di persone che si è formato per assistere a quanto stava accadendo. E poi lo sciopero di quattro ore. Venerdì a rischio treni e autobus. Notizia che arriva da Lanciano. Lo sciopero è previsto per venerdì 4 agosto dalle 9 alle 13, indetto da tre segreterie provinciali sindacali e che intiressa il distretto di Lanciano. Altra notizia purtroppo non positiva. Spettro chiusura per la Allibarton italiana o d'Ortona. Lavoratori infuriati per l'annuncio dell'azienda di 30 esuberi. Petaccia della CGL c'è il rischio che l'azienda lasci il sito di Ortone. Questa mattina c'è un incontro fra i sindacati e l'azienda nella sede di Confindustria. Proseguiamo. Si ribalta con il trattore e grave. Ari a lavoro in campagna perde il controllo del mezzo e resta schiacciato e poi da vasto a Katia Ricciarelli l'ospite della festa del ritorno. Torniamo sul, a proposito di ritorni, torniamo sul messaggero. Andiamo ad aprire la pagina di Chieti. Droga a fiumi per la Movida. Coccia di ferro ancora nei guai. Il titolo con cui viene aperta la pagina di Chieti. Svolta nell'inchiesta sui 40 kg di erbe e cocaina trovate a gennaio dalla polizia. Arrestato il pluri pregiudicato pescarese. Era lui il proprietario del maxicarico. Girava con l'autista. L'ordinanza le è stata notificata in carcere dove era inchiuso da marzo per altra causa. E poi Nuova De Meis. Bando ok oggi il vertice con D'Alfonso per la città che cambia ovviamente la città di Chieti. Nel taglio basso consiglio approvato il rendiconto del 2016 dopo le polemiche che ci sono state nei giorni scorsi sui conti del comune di Chieti. Andiamo nella pagina successiva quella di Lanciano Vastortona. Festival sfrattato scoppia la polemica nella città frentana. La kermesse di Cabaret lascia Lanciano per motivi di sicurezza. L'assessore replica gli organizzatori da noi. Nessuna cacciata. Il presidente Rulli aveva adombrato questioni di natura politica. Il comune ribatte sterile di atriba dal sapore post elettorale. Scendiamo nel taglio basso. Torna il grande caldo. L'acqua è a singhiozzo a Lanciano. Ieri interruzioni interruzioni della erogazione di acqua. Poi la Ecolan. Ecco i nuovi servizi, i progetti e poi sprechi idrici a Vasto. Il caso arriva in procura. Restiamo sempre sul sul messaggero ma adesso andiamo a vedere la pagina dell'Aquila. Ancora piromani in azione in fiamme il bosco di Aragno e il titolo di apertura della pagina. In azione ben cinque mezzi aerei. Il fuoco lambisce case disabitate. Sembra confermata la matrice dolosa. Qualcuno è salito fin lassù per accendere il fuoco. L'assessore imprudente sul posto fin dal primo minuto. Immediatamente pronti ad evacuare in caso di necessità. E poi del neopresidente della provincia con il sindaco Giampiero Marchesi. La nomina di Benedetto Revisore alla ASLE scontro in regione e poi la love story con una donna e il parroco si dimette. L'arcivescovo in una lettera dice profondo rammarico ma la chiesa proclama la misericordia per il caso di Don Vito Isacchi. Continuiamo con il messaggero sempre dalle pagine Aquilane. Gran Sasso conti ok e dal fine settimana parcheggia a pagamento. Il centro turistico annuncia un utile di 764 mila euro. Save Gran Sasso con testa. Nel frattempo torna il varco auto. Proseguiamo con questa pagina. In regione passa il piano parco. Pietrucce esulta. Forza Italia attacca. E poi per le manifestazioni Paoli stasera al parco del castello per i cantieri dell'immaginario. Ancora avanti sempre sul messaggero. La pagina di Avezzano sul Mona. Vaccini no allo stop degli ambulatori. Per la CISL con Italia le strutture ci sarebbero pesanti conseguenze in Marsica. La protesta dei sindaci inascoltata perché solo il comune di Celano ha avuto soddisfazione soltanto perché è un'amministrazione protetta politicamente. Questa è la domanda. Nel taglio basso ufficio sisma comunale a Sulmona. Task force dopo il ferragosto. A Villa Lavalle Longa Lippa così si protegge solo l'orso e il sindaco rammaricato per non essere stato invitato al vertice al ministero. E poi cancello killer né l'autopsia né le esecue per la tragedia di Villa San Sebastiano. Ancora da Avezzano invece la morgante nuovo presidente del CAM. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere anche la pagina dell'Aquila. Love story nel mirino. Don Vito si è dimesse l'apertura. Lettera all'arcivescovo. Chiedo scusa per le sofferenze arrecate alla comunità. Nel taglio basso. Orso Mario. Il sindaco spara tra virgolette sul parco. Lippa escluso dal vertice al ministero. Tutelare Villa Vallelonga. Carrara dice intervenga il prefetto. Adesso andiamo a vedere la pagina di Teramo sul messaggero. Allora andiamola a recuperare in maniera rapida. Eccola qui. L'apertura scuole sisma. Il caso Teramo finisce nell'aula del Parlamento. Sicurezza. Brucchi lancia l'appello. A Di Sabatino serve un piano unico. Vicenda al centro di una interrogazione del vicepresidente della Camera. Si lavora a una strategia condivisa tra comune e provincia. VACCA dei 5 Stelle. Dice gli indici sono bassissimi. E poi nuove imprese registrate. Spunta un trend positivo. Questi dati diffusi dalla Camera di Commercio. In provincia possiamo vedere qui le immagini. Frecciabianca in tilt bloccati in 500 ieri alla stazione di Giulianova. Possiamo farle partire. Eccole qui le immagini. Un pomeriggio da incubo alla stazione dove il pantografo ha tranciato il cavo elettrico costringendo il treno a fermarsi. Presi d'assalto i bar della zona dai viaggiatori assetati ovviamente per il gran caldo. La Polfer chiede il rifornimento d'acqua ma non arriva. Sono tutti rimasti a piedi racconta il messaggero per tre ore. Poi caricati su un altro convoglio le 500 persone bloccate sul Frecciabianca in avaria nella stazione. Il treno era partito da Milano ed era diretto a Lecce. Si è fermato come da orario estivo alle 15 e 30. Essendo arrivato anche in ritardo nello scalo giuliese sono scesi i viaggiatori che avevano prenotato di scendere a Giulianova ma poi ci sono state le difficoltà e dunque questi disagi nella stazione di Giulianova. Proseguiamo con le notizie dal Terramano ma adesso torniamo sulla città. Emergenza scuole. Chiudete le scuole insicure. Lo stadio va bene. Il comitato dei genitori per la sicurezza chiede di abbandonare tutti gli edifici con indici inferiori a 0,2. L'incontro tra il sindaco e il comitato dei genitori previsto ieri sera è saltato. Le parti si sono riaggiornate per domani nel municipio di Teramo. E poi nel taglio basso siamo la casa dello studente come polo scolastico d'emergenza. Questa è la proposta di Antonio Topitti che chiede di verificare la possibilità di utilizzare l'incompiuta. Andiamo avanti. La Camera di Commercio aumenta i contributi alle imprese. Lo stanziamento previsto di 250 mila euro passa a quasi 900 mila. Tre i bandi disponibili. Potete trovare tutte le notizie sulla città. E poi il problema del randagismo è ormai debellato. Antonini dal primo giugno è dirigente del servizio veterinario della ASL di Teramo. Continuiamo. Battibecco in emiciclo sulle nomine alla ASL. Gatti contesta ad Alfonso per la scelta discrezionale nei collegi sindacali. Andava rispettato il sorteggio. Poi l'Ateneo con i concerto all'alba tradizionale in cima al Gran Sasso. Paisaggi sonori con Eric Amou apre la campagna di immatricolazione all'Università degli Studi di Teramo. In provincia non possiamo sostenere altri 900 migranti. Fratelli d'Italia attacca e critica la scelta della Prefettura per il ricollocamento sul territorio provinciale. Proseguiamo ancora con le altre notizie. La cronaca stroncato da un infarto sul materassino. Luigi Gino Quaglia muore colto da un malore in acqua davanti alle figlie. Aveva 66 anni. Proseguiamo ancora. L'inchiesta. Tutti al mare e nell'area marina poco protetta del Cerrano. Cartelli di viete e cordoni ci sono, ma i turisti non rispettano le regole e le zone riservate alla fauna protetta. Passiamo ora allo sport. Dunque torniamo sul quotidiano il centro. Andiamo ad aprire la pagina dello sport. Partiamo da una notizia che riguarda non direttamente il calcio abruzzese. De Santi scambia vita farà il dirigente. L'abruzzese a 40 anni chiude la carriera da calciatore. Il portiere di Guardia Guerre rescinde il contratto con Monaco. Per iniziare una nuova fase sarà il club manager della Roma. Proseguiamo invece. Passiamo alle notizie che riguardano il calcio abruzzese più propriamente detto. I biancazzurri a Palena segnano Zampano, Mancuso e Gans. Squadra corta e aggressiva. Si cominciano a vedere i tagli degli esterni di attacco fondamentali nel gioco di Zeman. Dunque il titolo. Il Pescara comincia a essere Zemaniano. Andiamo a vedere l'amichevole con la Fidelissandria. Un discreto primo tempo con tracce ben visibili del gioco voluto da Zeman. Il Pescara supera 3 a 1 la Fidelissandria, squadra che militerà nel prossimo torneo di Serie C e denota dunque dei passi in avanti rispetto alla gara col Teramo finita col medesimo risultato in quello che è il penultimo test prima del debutto in Team Cup di domenica prossima contro la Triestina. Zeman conferma dal primo minuto la coppia di centrali, Delicarri per Rotta, candidabili dunque per il match di Coppa Italia. Palazzi provato come play ai suoi fianchi, Coulibaly e Valzania. Quest'ultimo dopo lo scampolo con la Virtus Teramo disputerà tutti i 90 minuti al pari di Zampano e Nicastro. L'ex Perugino fa parte del tridente con Cappelluzzo al centro e Mancuso a sinistra. Sulle gradinate dello stadio degli Angeli di Palena 400 tifosi, una cinquantina di sponda pugliese. Il Pescara parte bene. Bon Pressig che sorprende la Fideliss e che crea i presupposti per un paio di pericolose conclusioni di Mancuso e di Palazzi che sfiorano il bersaglio grosso. Al dodicesimo il primo gol del pomeriggio porta la firma di Francesco Zampano. Il laterale genovese tra i migliori scende di prepotenza, ottiene il triangolo da Cappelluzzo e batte Cilli con un preciso diagonale. I quasi 800 metri di Palena non risparmiano i giocatori dal grande caldo, tanto che a metà del tempo c'è un time out per recuperare liquidi ed energie. Poco dopo la ripresa dell'ostilità il Pescara raddoppia alla mezz'ora con Mancuso che sorprende alle spalle Onescu e raccoglie il suggerimento di Coulibaly per poi depositare in rete in scivolata. Lo stesso Mancuso rifinisce una rapida azione di rimessa che porta al tiro Nicastro che però non è preciso. Nel secondo tempo Zeman cambia subito 7 undicesimi dando i primi minuti a Campagnaro con Gans e Lattelatti in avanti, ma l'avvio di ripresa è negativo con la difesa infilata più volte in profondità dalla Fidelitz che al quarto di mezzo il distacco con Minicucci e poco dopo va vicino al pari in particolare con la doppia conclusione di Balisic che trova prontissimo Fiorillo. A ridestare il Delfino è la velocità di Lattelat il cui spunto innesca l'azione del terzo gol pescarese. Lo realizza Simone Andrea Gans che trasforma in rete la prima palla buona giocata in area pugliese. Lo stesso centravanti sfiora la doppietta prima di metà tempo ma Mauro Antonio si oppone. Il risultato non cambia fino alla fine. I biancazzurri torneranno in campo subito giovedì pomeriggio a Palena per il test in famiglia con la primavera mentre nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità della cessione di Davide Vittorini al Carpi in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Andiamo avanti sempre a parlare del Pescara, i due ex Atalanta, Lattelat, quanta fatica con il Boemo e Capone. Obiettivo tornare in Serie A. Andiamo a vedere l'apertura dello sport sul messaggero. Capone stregato da Zemano. Non è vero che il Boemo parla poco in questi giorni e prodigo di consigli soprattutto con noi più giovani. Nelle giovanili non avevo mai lavorato tanto sul piano fisico. Tra me l'Atalanta sarà una concorrenza tra grandi amici e poi passi in avanti nel successo contro l'Andrea. Abbiamo visto in precedenza l'amichevole. Nel taglio basso la Serie C. Ilari, Teramo, quanto lavoro sul centrocampo? Asta cura molto i movimenti del reparto e il nostro gruppo vuole cancellare la scorsa stagione. Andiamo sul centro per vedere il titolo sul Teramo. Il gioco di Asta aiuta a valorizzare le mie caratteristiche. Sempre le parole di Ilari. La mezzala alla Coppa teniamo molto e vogliamo partire col piede giusto sin da domenica contro la Fermana. Andiamo a vedere anche il titolo dello sport per quanto riguarda la città. Ilari cambia e prende la numero 10 del Teramo. Questo è il titolo di apertura. Il centrocampista è uno dei pochi confermati della passata stagione. Gli esuberi diventano una grana, una casacca pesante. L'ex Sant'Arcangelo spiega. L'anno scorso ho saltato la preparazione e il mister chiede alla mezzala di attaccare spesso. De Grazia lo conosco bene e sono certo che farà molto bene al Teramo. Andiamo avanti con la lettura delle pagine dello sport. Ritorniamo sul quotidiano Il Centro. A centro pagina rottura e poi intesa l'Aquila andrà a fioravanti. Serie D giornata ricca di colpi di scena nella tenero estiva fino all'accordo per il preliminare. Cambiamo pagina. Sempre la serie D. Cantiere Francavilla poche conferme e tante novità in arrivo. Il tecnico Iervese occorre recuperare il tempo perso. Il primo obiettivo sarà conservare la categoria. Intanto ieri è arrivata anche l'ufficializzazione del ripescaggio che già era scontato ma è arrivata anche la comunicazione ufficiale. Per la prima categoria il Lanciano spera nella promozione per evitare il derby. Rossoneri a lavoro. Oggi il direttivo della FIGC per valutare il ripescaggio. Ho presentato l'Atletic presi Valbonesi del Bello e di Girolamo. Torniamo sul messaggero. Andiamo a vedere l'altra pagina dedicata allo sport. L'Aquila finalmente è arrivato l'accordo. Dopo una giornata piena di colpi di scena il club rossoblu viene ceduto a fioravanti Gizzi e Pensi. Il passaggio delle quote è previsto inizio settembre. E poi sempre per la serie D. Paris Avezzano Forte ora deve essere squadra ingaggiati anche il difensore Silletti e il portiere L'Oliva. Per il beach volley Lupo e Nicolai primi nel girone mondiale. Vittoria sofferta contro la coppia russa. Adesso i sedicesimi. Nel taglio basso il basket di A2 con Roseto che ufficializza Nelson e lui il primo straniero. E poi i motori. Ponzio resta al comando dopo la gara di Magione. Nel motociclismo il baby Matteo Patacca si impone a Misano. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina. Vi do appuntamento a domani alle ore 8 con mattino 6. La nostra informazione invece torna alle 14 con il TG6 e poi con le altre edizioni delle 19 e delle 23. Grazie ancora. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.